Abbiamo deciso per la commemorazione proprio anche delle vittime, per il ricordo di questa drammatica occasione di riportare a nuovo il Parco delle Lastre, rinnovando proprio tutte le attrezzature e rendendolo affresco. Che cosa prevedono i lavori? Abbiamo inserito un nuovo campino da calcetto recintato che darà l'opportunità anche al reggello di poter sfruttare quest'area proprio per il gioco del calcio. C'è un parco attrezzato con attrezzature ginniche, con un percorso fitness molto interessante, molto innovativo, oltre a ripetere con successo, ho avuto anche a Valombrosa la carrucola che dà la possibilità ai ragazzi, anche ai più piccoli, di poter giocare nel parco. E poi una novità, credo che nel territorio, non ce ne siano molte nel territorio valdarnese, una pista per il mountain bike, è stato creato un percorso veramente simpatico che fa percorrere credo quasi un chilometro dentro il parco con le bici e può essere sfruttato anche per questo sport che è dentro un recinto di un campo e dentro un recinto di un parco.